Carissimi amici e amiche, salve a tutti, buona giornata, buona domenica. Stiamattina volevo fare un video di riflessione più a carattere intimistico, diciamo, più a carattere sociologico, se mi passate il termine. Perché in molti casi di cronaca, noi parliamo del caso di Liliana ovviamente, che ci sta appassionando, ma in generale, in molti casi di cronaca che trattiamo, si evidenzia come alla base si parli di una concezione di amore malato. Parliamo di un amore malato, che può essere pure l'amore malato di una madre per una figlia, no? Come nel caso della povera Elena del Pozzo, oppure della mamma di Cogna. Un amore malato, anche quello di Parolisi per la moglie, per l'amante di Antonio Logli. Ma più che mai emerge, emerge nel caso di Liliana, un aspetto che lo fa diventare un unicum, un unicum nelle vicende giudiziarie, perché in questo caso si sovrappone tutto il male della natura umana in tutte le sue sfaccettature. L'amore malato, che forse è quello là preteso da Claudio, forse da lui equivocato, forse è chiamato amore il desiderio di avere una donna in casa, una donna vecchio stile, vecchio stampo, che fa i mestieri. Ma l'amore malato può essere anche quello che si dà per scontato durante il matrimonio. Per carità, veniamo pure a Sebastiano. Quando la routine uccide la passione e l'interesse, e quindi subentra comunque una forma di disagio negli anni, quando si dà per scontato l'altra persona. Quindi dovremmo pensare e renderci conto che quando si parla di amore si parla di un miracolo, si parla di qualcosa che ha la sostanza della ragnatela, bella anche da guardare, ma fragile, molto fragile. L'amore si basa essenzialmente, il suo tessuto è basato di passione, di desiderio, di desiderio dell'altro, di vedere, di stare con l'altro, di vedere l'altro, di stare con l'altro. E finché questo esiste, questo desiderio, è un sentimento che finché esiste questo, non conosce crisi. E allora bisognerebbe vivere ogni giorno come se fosse ecco un continuo corteggiamento del partner, una continua conquista, non dare niente per scontato, è quello, il vero segreto e forse è quella la vera difficoltà. L'abitudine uccide il sentimento. Però poi c'è quell'altro aspetto, quello di pretendere, di volere per forza qualcosa, quindi la compulsione, l'insistenza, l'ossessione, è un modo anche quello di uccidere un sentimento quantunque ci fosse, anche l'amicizia, questo modo di essere compulsivo o ossessionato, uccide perfino l'amicizia. L'amore è quel miracolo, quell'alchimia che nel momento stesso in cui noi lo viviamo, per noi è per sempre. Nessuno si innamora quando si innamora a scadenza. Giuri di essere fedele sempre. Non si tratta di un giuramento. L'amore è per sempre finché dura. L'amore è per sempre finché dura. Perché poi alla fine ci accorgiamo di quanto esso invece sia fragile e caduco, come una pianta che se non viene innaffiata, se non viene curata, concimata, appassisce. Nel caso di Liliana c'è un amore malato, in questo caso di Liliana c'è un amore malato anche da parte degli amici addirittura, da parte anche dei parenti, oserei dire. Perché è emerso, almeno in ipotesi, il discorso economico. Il discorso economico spesso si inserisce esiste nel rapporto come una mina vagante. Perché quando una persona viene vista come quella che aiuta, aiuta in denaro proprio, non tanto con il tempo, in denaro, e allora nel tempo la riconoscenza iniziale si trasforma quasi in una pretesa, perché diventa un'abitudine che una persona aiuta, aiuta, aiuta. E tutto quello che ha fatto magari per un lungo periodo fino a quel momento non si ricorda più. E quindi magari, ecco, ci si ribella se qualche volta non è possibile aiutare a livello economico. Per cui, vedete, io, io dico sempre che ho lavorato tanti anni nel sociale e quindi ne ho viste di cotte e di crude. L'animo umano, l'animo umano rivoltato come un calzino, così, così. Perché non interessa che tu abbia grandi ricchezze. Sapeste quante volte ho visto, ho saputo, ho visto di litigi fratricidi per pochi spiccioli. Per nulla. Quasi per nulla. Non è vero che ci sono questi litigi per grosse fortune. Non è così. Quindi quest'area del discorso economico incombe, incombe sicuramente anche su questa vicenda, questa storia di Liliana e c'è chi ipotizza che una eventuale colpevolezza di Sebastiano farebbe comodo per ereditare, chiamiamo così, quel povo che ha lasciato Liliana, insomma, quel povo dei suoi averi che non so se sono i 50.000 o poco più. E c'è chi dice che il sodalizio creato fra Serpin, gli ex amici, i vicini di casa, i familiari, venga tenuto legato diciamo sostanzialmente da questo aspetto economico. Quindi si ipotizza che sia l'aspetto economico che li tiene legati. Ma c'è anche chi dice il contrario. Attenzione, qua facciamo tutte le ipotesi. Perché diciamo, io mi sono fatto la mia idea, ma non è che vado a senso unico. Finché non viene dimostrata nulla noi facciamo tutte le ipotesi. Perché c'è anche chi dice che i soldi farebbero comodo anche a Sebastiano. Che allora si dice no, ma allora lui ha provveduto ad eliminare in qualche modo Liliana perché se poi Liliana veramente voleva andare via, avesse voluto andare via di casa quindi lasciarlo e poi lui come sarebbe rimasto senza il contributo di Liliana con i suoi lavoretti e con la sua piccola pensione. Quindi avrebbe ridotto il suo stile di vita. Questa è un'ipotesi anche se poi ci siamo detti molte volte che attivate a un certo punto e poi ci si ferma perché si dice come, quando, dove, gli orari, le telecamere, tutto. come si fa? Poi qualcuno dice, no, ma forse lui è un mandante, no, noi non stiamo parlando della grande mafia, permettetemi, rimaniamo con i piedi per stella, rimaniamo con i piedi per stella. Quindi la sommatoria, direi, di tutti questi amori malati non si può anche escludere la terza via, cioè dalla sommatoria di questi amori malati, di questi amori che non hanno sprigionato una positività in Liliana, abbia fatto andare in tilt la mente di Liliana che in un momento di crisi potrebbe anche essersi suicidata, ma su questi gli inquirenti dovrebbero spiegare molte cose, molte cose che non tornano. E allora ecco che finché non ci spiegano gli inquirenti noi non siamo autorizzati a dire nulla di definitivo, però osserviamo, io sono un osservatore, riferisco quello che vedo, quello che osservo, osservo il paradosso di questi schieramenti che poi non sono schieramenti ma è uno contro tutti per meglio dire ed è strano vedere soprattutto come emblema di questa storia quella foto quella foto sulla sulla tomba al cimitero sulla tomba di Liliano quella foto con i castelloni ricordate con i castelloni esposti a favore di telecamera sorretta dai familiari senza Sebastiano ovviamente ma la peculiarità di quella foto sapete dove sta che ognuno si vive la sua Lilli Liliana Cam ognuno se la vive a modo suo anche se in quel momento vengono tenuti insieme da un vincolo di solidarietà il sunto di quella foto sapete qual è che c'è un castellone in mano mi sembra la cugina in cui c'è scritto giustizia per Liliana giustizia per Liliana poi un altro castellone in mano al fratello in cui c'è scritto verità per Lilli quindi non Liliana ma detta Lilli con le L-I L-L-I e poi in mezzo lui il vate l'uomo della providenza l'uomo amato segretamente da Liliana per 42 anni in cui c'è un castellone che dice ciao Lilli Lilli però questa volta non scritto L-I L-L-I no ma L-I L-L-I con la Y finale e in un angolo Cam Cam come sarebbe un suo marchio di fabbrica Cam quindi tre castelloni con tre nomi differenti Liliana Lilli con la I finale Lilli con la Y finale Cam e tutte e tre hanno la loro Lilli Liliana e tutte e tre sono solidarizzati da un nemico comune quindi ognuno è immerso nel suo mondo ognuno con Liliana ha perso qualcosa qualcosa di differente è un pugno nello stomaco però vedere al centro di quella foto Serpin che non fa parte della famiglia insomma anche perché oggettivamente fino al giorno dopo della spedizione nessuno lo conosceva nessuno sapeva niente nessuno l'aveva mai visto con Liliana nemmeno la figlia nessuna amica nessuna confidenza nessuna parola nessuna foto nessuna traccia e invece sarà accorto stranamente come il messia come una vecchia conoscenza meglio di un marito e allora come può non venire alla mente ciò che ha detto il professor Meluzzi a quarto grado l'ha definito mitomane gli inquirelli decidiranno anche questo credo quindi per concludere per concludere questa riflessione questa di Liliana è un emblema anche di altre storie ma questa è un unicum questa storia qui è un unicum nelle vicende giudiziarie degli ultimi vent'anni una storia con poco amore una Liliana lasciata sola una Liliana che non è stata capita non è stata aiutata nella sua fragilità sia emotiva che fisica addirittura minuta fisica una fragilità in tutti i sensi una donna che ha tenuto forse dentro tutti i suoi problemi una morte ancora a volte nel mistero e in questo mistero che diventa un minestrone ognuno si sente autorizzato a fare l'investigatore privato a dire la sua a fare ipotesi assurde come quello che si sente quasi ogni giorno come il fatto degli undici passi contati dall'uscio di casa all'uscio del portone senza pensare minimamente a quello che si dice come il fatto di fare ipotesi omicidio in casa con la presenza invece delle telecamere e in questo ministrone c'è anche una come dire un poco rispetto per la magistratura inquirente io su questo io sono sono sempre stato un uomo delle istituzioni anche per il lavoro che ho fatto e mi fa male mi fa male quando sento dire se gli inquirenti concludono poi alla fine con il suicidio o con qualche altra cosa che non va bene allora allora Silvia il fratello Serpin una prova la troveranno faranno loro gli investigatori o metteranno gli investigatori privati perché loro metteranno da parte gli inquirenti quelli là dello Stato si faranno giustizia da solo cercheranno cercheranno loro come vanno a cercare i tartufi in montagna non è giusto questo bisognerebbe avere più rispetto per la magistratura inquirente più fiducia i tempi sono lunghi ma dobbiamo anche capire una cosa però io sono anche io ho stato critico molte volte con la lunghezza delle indagini ma bisogna anche capire in questo caso soprattutto la difficoltà perché qua non è uno scherzo ognuno di noi o un video magari fa un'ipotesi poi finisce là quando gli inquirenti fanno ipotesi specie se fossero accusatorie a cui conseguono dei provvedimenti di legge come può essere un arresto una detenzione anche domiciliare insomma una coercizione di qualsiasi maniera e là si va a incidere sulla libertà su delle persone poi ci sono delle ipotesi accusatorie che sforciano probabilmente in un processo un processo che può cambiare la vita delle persone non è un gioco non è più un gioco quindi concludo questo video dicendo che in questo amore malato che ha circondato Liliana io mi auguro che in fondo al tunnel si veda la luce per dare giustizia a questa donna che è stata anche infangata una donna secondo me di grandi valori che si teneva un po' tutto dentro che soffriva in silenzio che non merita di essere un po' sballottata così tra le varie ipotesi e non merita soprattutto che di lei si parli male anche se fosse non se ne dovrebbe mai parlare male di chi non c'è più grazie amici e amici ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti vi auguro una buona serata e un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi ci sentiremo adesso parto per un po' di giorni vi faccio una sorpresa poi verrete ciao a tutti grazie